La giornata di oggi, davvero sballo, giornata di sole arriva le strade, tra un po' e tra un po', bene, allora al massimo al giorno toglie il saggio di toro, sbagliando si impara, solo che non si finisce mai di sbagliare, e non si finisce mai di imparare. Ecco la mia ombra, la mia ombra non mi segue ma mi precede, sta cambiando qualcosa? Grazie